Ciao, io sono Maria e questa è la cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Adesso vi svelo cosa prepariamo. Oggi sforneremo un dolce ideale per la colazione e la merenda. Buono, genuino, ma soprattutto salutare, perché useremo la farina integrale, le mele e i mirtilli e per renderla ancora più golosa aggiungeremo anche degli amaretti. Soffice ed irresistibile e perfetta per i gusti di tutta la famiglia. Gli ingredienti che useremo per questo dolce sono 100 g di zucchero 70 g di olio di semi 2 bustine di zucchero vanigliato 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 3 uova 200 g di farina integrale 1 bustina di lievito per dolce 12-14 amaretti 2 mele della qualità che preferite ed infine una tazza da tè colma di mirtilli Iniziamo e per prima cosa sbucciamo le mele Come potete vedere io ho scelto le Pink Lady ma voi potete benissimo usare quelle che vi piacciono di più Adesso prima la tagliamo a metà Poi le dividiamo in quarti Ed aiutandoci con un coltello ben affilato Togliamo il torsolo centrale Ed infine riduciamo a quadratini Più o meno della stessa misura In modo che poi in cottura cuoceranno uniformemente Ora che tutte le mele sono tagliate Le mettiamo da parte fino al momento del loro utilizzo Nel boccale della planetaria versiamo lo zucchero L'olio Le bustine di zucchero vanigliato Ed infine il cucchiaino di estratto di vaniglia Poi accendiamo a velocità media Vi ricordo che questa torta ha un procedimento talmente semplice Che può essere fatta anche con delle fruste elettriche O perché no, volendo anche a mano Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati Continuiamo aggiungendo le uova Uno per volta E incorporiamo il successivo Solo quando il precedente sarà completamente assorbito Se avete domande, dubbi o qualunque altra cosa Scrivete un commento Sarò felice di rispondervi E come sempre Per non perdervi le prossime ricette Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E mettete un mi piace al video Vi ringrazio di cuore in anticipo Detto ciò Aggiungiamo l'ultimo uovo E riavvio nuovamente la planetaria Quando tutte le uova saranno ben amalgamate Continuiamo aggiungendo la farina insieme al lievito E facciamo ripartire la planetaria Fino a che tutti gli ingredienti non saranno mischiati E l'impasto non risulterà cremoso Appoggiamo il boccale della planetaria Al centro del tavolo E uniamo le mele I mertilli Poi gli amaretti ammollati leggermente nell'acqua Così come sto facendo io Vedete? Ed infine aiutandoci con una spatola delicatamente mescoliamo dal basso verso l'alto Quando l'impasto è ben amalgamato Aiutandoci sempre con la spatola Versiamo il composto in una tortiera Dal diametro di 26 cm rivestita di carta forno Livelliamolo Ed infine per renderlo più goloso Lo spolverizziamo con dello zucchero semolato Che al termine della cottura Formerà una crosticina croccante Cuociamo in forno preriscaldato Ventilato a 180 gradi per circa 40 minuti O comunque fino a quando la sua superficie Non risulterà ben dorata Quando la torta sarà cotta La sforniamo E la lasciamo raffreddare completamente E prima di servirla La trasferiamo sopra un piatto da portata Fatemi sapere se questo dolce vi è piaciuto Ed arrivati a questo punto Come al solito Se la ricetta ti è piaciuta Un bel like a modo giusto Per farmelo sapere assieme ad un commento Per altre ricette iscriviti al canale Ci vediamo alla prossima Ciao da Maria Ciao da Maria Ciao da Maria